Bentornati in questi vlog settimanali in cui cerco di farvi imparare, vedere cose, mostrando quello che imparo e faccio durante la settimana. Ci eravamo fermati per un po', è uscito un video su questo canale in cui spiego quello che è successo. Il focus del video di questa settimana è quello di riprendere un po' in mano le redini, mostrarvi la struttura che voglio utilizzare per portare avanti questo vlog, che è un po' simile a quella di prima, ma ci sono stati degli, spero, miglioramenti, e soprattutto iniziare anche un po' una nuova challenge, chiamiamola così. Siamo tornati nella YouTube del 2018 e quindi in questo vlog cominceremo anche il percorso di persona che scrive veloce sulla tastiera. Quindi questo è uno degli obiettivi presenti nella lista degli obiettivi per il quarter che vi faccio vedere adesso. Eccoci qui, quanto vi era mancato ClickUp, il centro della nostra organizzazione. Ci sono alcuni obiettivi che in realtà avevo già messo, settato per il quarter 2, ma come ho spiegato nel video precedente ci sono stati dei rallentamenti non da poco, diciamo che ho tralasciato un po', quindi ho resettato tutto spostato dal quarter 2 al quarter 3, che è quello che comincia oggi, diciamo il primo luglio. Lato cucina ci sono alcune cose che vorrei fare sia per piatti italiani che per piatti indiani. Tiella, tiella di Gaeta ragazzi, per chi l'ha provata sapete quanto è importante averla nella vostra vita. A Lisbona nessuno la fa, quindi questo è assolutamente da fare. Anche i piatti indiani ne ho fatti vari una volta sola, voglio diventare un maestro. Diciamo che il mio standard per segnare qualcosa come fatto è che più o meno riesco a farlo anche senza una ricetta, che l'ho fatto già due o tre volte in maniera soddisfacente, magari uno o due volte dove non viene buono, a quel punto dico ok, sono confident che sono piatti che conosco e che posso fare. Spagnolo B2, parlo già italiano e portoghese, quindi inevitabilmente lo spagnolo confonde ulteriormente le cose, sono lingue estremamente simili ma non così simili da aiutarsi tra di loro. Molto spesso si va ad inciampare, uno cerca di dire una parola in spagnolo e la dice in portoghese viceversa, quindi il mio obiettivo è arrivare al B2 di spagnolo senza andare a impattare sul mio B2, forse C1 di portoghese, se escludiamo la parte scritta, il mio portoghese scritto penso sia un A0. E niente, quindi questo qui è un po' un obiettivo di apprendimento, ho lasciato l'idea di completare il corso di Udemy, perché mi sembra un po' più utile di Duolingo, quindi cercherò di continuare a farlo, però penso in realtà la parte più importante sarà quella di sperimentare effettivamente con la lingua, magari guardare dei film spagnoli in lingua originale, delle serie spagnole in lingua originale, anche se quello che ho visto diciamo che il livello non si allontana molto dal livello italiano, c'è molto molto trash, però vediamo cosa possiamo fare e provare a parlare un po' con persone che conosco spagnole, vedere se più o meno ci avviciniamo al livello. Passiamo alla parte di YouTube, come forse avevo già detto il mio obiettivo generico per YouTube è quello di essere un creator bravo e helpful, e la mia idea quindi è quella di ricominciare a fare più contenuti su questo canale, come state vedendo. Uno di questi contenuti potrebbe essere un learning in public, qualcosa che avevo già iniziato a fare, lo trovo un format molto carino perché mi forza in un certo senso a studiare, ad aggiornarmi, mi permette di comunicare con voi più spesso e penso che magari aiuti anche molti di voi nell'audience a effettivamente apprendere nuove cose, quindi cercherò di farlo. Dal punto di vista finanziario io ho iniziato un po' un piano d'accumulo, chiamiamolo così, quindi oltre a tutte le altre cose che faccio, quelle che devo fare come per esempio pagare il mutuo della casa, però vorrei mettere da parte in questo periodo più o meno 1500 euro al mese nel piano di investimento, tutto il resto l'ho lasciato fuori, cioè non voglio andare troppo nello specifico. La cosa fondamentale è che io questi soldi metta lì, poi il resto posso vedere un po' come va e questo sarà l'obiettivo per i prossimi più o meno sei mesi. Per quanto riguarda la stand-up comedy? Devo dire che ho avuto un po' un rallentamento lato stand-up comedy, forse sta passando un po' il periodo di infatuazione, il periodo iniziale in cui tutto sembra bello e incredibile, per vari motivi, sia legati proprio all'arte in sé che al di fuori, però mi piacerebbe comunque provare a continuare, quindi cercherò di almeno scrivere due pezzi nuovi da cinque minuti, niente di che. Vediamo se avrò anche l'occasione di farli. Poi d'estate chiaramente è anche più difficile trovare le date, organizzarmi diciamo in pratica, quindi questo obiettivo lo vedete un po' vacillante. Varie canzoni che vorrei imparare a fare con la chitarra elettrica. Poi c'è una parte media, quindi libri, film e io mi sono creato una lista di contenuti target che vorrei leggere, che vorrei vedere e quindi l'idea di questi obiettivi è darmi un check per vedere se effettivamente sto progredendo verso l'obiettivo. Quindi in questo caso selezionerò sei libri non fiction da leggere, due fiction. Vi porterò poi magari anche dei contenuti update su questi libri che sto leggendo perché mi sembra interessante. Stessa cosa con i film. Forse 12 film sono tanti e che è paradossale perché è la cosa più facile da fare forse tra tutte queste, cioè vedere film dovrebbe essere basilare, però sai uno deve trovare il tempo, deve essere nel mood, deve magari negoziare con la controparte, con la dolce metà per vedere quel film nello specifico. Quindi vediamo, però sono film classici che magari non ho mai visto, so che li voglio vedere, che li devo vedere per migliorare la mia conoscenza cinefila. Per quanto riguarda la parte di dieta, esercizi, sono un po' arretrato, sia da un punto di vista fisico e da un po' che non mi misuro. Altro problema, forse motivo per cui ho smesso di stare così attento alla dieta, quindi il mio obiettivo è tornare ai livelli di fine marzo dove ero forse al 16% di massa grassa e scendere anche un pochettino di più al 15%, dovrebbe essere fattibile. Lato esercizio in particolare, non ho nulla qui, devo capire come tracciarla questa cosa, si arriva poi all'obiettivo che andremo a vedere in questo video, cioè migliorare la rapidità di scrittura sulla tastiera. Mi sono messo come obiettivo generico 90 parole al minuto, però vediamo, faremo un test adesso per capire a che punto sono, dove posso arrivare, ma soprattutto vorrei documentare questo processo di apprendimento, di miglioramento della mia velocità di scrittura in un video YouTube dedicato. Devo capire ancora se farlo solo in inglese, se in italiano o in inglese, perché secondo me diventa carino sfruttare questi vlog per poi creare dei contenuti specifici in cui vi vado a dire cosa mi ha aiutato a magari apprendere più velocemente, quali sono i concetti base che mi insegnerei dovessi tornare indietro, cosa mi ha aiutato di più, come ho fatto allenamento. Quindi la mia idea è raccogliere tutto questo in maniera più specifica in un video dedicato, fatemi sapere che ve ne pare, e potrebbe anche essere un motivo in più per continuare con gli obiettivi di questi vlog. Ho questa visione in modo che io poi ogni settimana possa dare un'occhiata, però come è stato detto tantissime volte ci sono mille motivi per non fare qualcosa, in questo caso però ho un motivo per fare queste cose, cioè che voglio farle, che sono cose interessanti per me e quindi cercherò di farle al meglio nonostante magari il tempismo non sia migliore. Il tempismo era ancora migliore lo scorso trimestre, ma non l'ho comunque fatta, quindi devo mettermi in riga, devo forzarmi un po', e questa è stata una lezione importante per me di questi tre mesi senza vlog. La cosa che ho imparato è che c'è valore nell'incessantismo, in questa idea di continuare a fare le cose, di non fermarsi davanti a nulla. Da una parte è qualcosa che sicuramente può avere dei problemi se fatto in maniera sbagliata, io sono più nel contro-grindset rispetto a favore del grindset, quindi c'è un po' una repulsione verso questo tipo di parole, questo tipo di atteggiamento, però vi rendo conto che a volte è importante. Ci sono dei temi su cui poi dà risultato il fatto di essere costanti ogni giorno, mettersi lì, fare, 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 fare. L'esempio principale che mi viene in mente è Casey Neistat, che per anni ha fatto un vlog giornaliero, forse addirittura può essere. Sì, mi sembra fosse giornaliero, che secondo me aveva dei livelli incredibili, poi lui stesso a un certo punto si è reso conto che stava diventando ripetitivo, che stava diventando difficile per la sua vita, quindi ci sono dei limiti. Un'altra persona che mi viene in mente è Davide Marra del Cerbero Podcast, insomma lui è una macchina, perché chiunque abbia lavorato con lui sa che è costantemente in funzione, è disponibile, lavora veramente a un ritmo che pochissimi creator hanno. In Italia sicuro, ma forse anche nel mondo, è una persona che appunto continua, è lì lui tutti i giorni live su Twitch, due volte a settimana, su YouTube, fa i suoi contenuti, fa collaborazioni, quindi mi rendo conto che è qualcosa che io invece non ho, o che non ho così tanto. Anche al lavoro mi sto rendendo conto che una delle forze di certe aziende è questo incessantismo, è questa ossessione, se vogliamo, che viene portata avanti da un punto di vista proprio di cultura, quindi è qualcosa che sto cercando di portare in maniera un po' più strutturata, specie nella mia vita personale, perché poi in realtà al lavoro questo approccio ce l'ho un po' di più. E vediamo cosa succederà. Adesso però gettiamoci un po' più nel dettaglio sul discorso velocità di scrittura, che sarà il fil rouge, penso, di questa settimana. Ok, ci siamo, questa è la pagina di test sulla velocità di scrittura. Sto scrivendo con la mia bellissima G915, mi sembra, se il nome di questa tastiera, non so se ci sono fedicisti di tastiere, non mi sono ancora messo a fare quel lobby costosissimo delle tastiere personalizzate, spero di non entrarci mai perché vedo potenziali problemi. Il mio obiettivo è fare due test, magari uno dove scrivo come scriverei normalmente e l'altro invece scriverei con quella che so essere la tecnica, come si chiama, touch typing mi sembra, che è un po' diversa, magari ne parleremo più nel dettaglio, per vedere un po' dove sono le differenze. Così cominciamo a capire anche un po' i punti di partenza. Altra cosa che vorrei sottolineare, in realtà penso che sia abbastanza differente scrivere in inglese e scrivere in italiano a livello di valori, di risultati, però vediamo, io proverò a fare tutto in inglese anche perché penso che in realtà la maggior parte delle cose che scrivo io le scriva proprio in inglese. Quindi, primo test con la scrittura normale. Ok, siamo a 69 parole al minuto con il 94% di accuracy, adesso provo a scrivere con la tecnica del touch typing. Altra cosa che ho notato è che istantaneamente ho dovuto guardare la tastiera un paio di volte, io mi confondo anche perché ho tastiere con layout differenti, vediamo con la tecnica che poi in realtà penso dovrei adottare per continuare a migliorare. Ok, 21 parole al minuto, bene questa è stata tragica. Sappiamo i punti di partenza, le mie domande in testa al momento sono, ha senso provare a fare uno switch completo su questa tecnica che poi vi mostrerò, spiegherò un po' meglio di cosa si tratta, oppure tanto vale continuare a provare a migliorarmi con la tecnica attuale. Mercoledì vediamo un po' come procede il progresso con la scrittura veloce. Sicuramente lavorare su 5 tastiere diverse negli ultimi giorni non aiuta perché ho tastiera in questo ufficio, tastiera nell'ufficio di lavoro, tastiera a casa, tastiera del laptop personale e tastiera del laptop di lavoro, quindi sono un po' confuso, però proprio riguardo a questo ho anche capito che forse potevo trovare uno strumento migliore per esercitarmi rispetto a quello che vi ho mostrato prima e per adesso questo strumento migliore per me è Monkey Type che intanto mi permette di mostrare la tastiera a schermo che mi sembra molto utile per assicurarmi di non guardare giù. Mi permette per esempio di fare dei test da 30 secondi invece che 60 funzionalità che mi sembra abbastanza utile considerato che magari è un modo più veloce per esercitarmi, poi a quanto pare permette anche di fare dei test sulle parole che sbagli più spesso, forse anche l'altro sito aveva funzionalità simili ma qui mi sembrano presentate anche in maniera più carina, quindi continuiamo e esercitiamoci su questo. Adesso faccio un test scrivendo come scrivo normalmente e poi farò un altro test scrivendo con la tecnica più raffinata, vediamo come va e qual è la comparazione con l'altro test che abbiamo fatto. Ok, allora questo test è andato decisamente meglio del previsto, siamo arrivati a 82 con il 99% di accuracy quindi ho fatto solo un errore. Devo dire che in realtà non ho guardato alla tastiera a schermo, ho guardato comunque alla mia tastiera fisica una o due volte, quindi la tastiera a schermo non mi ha aiutato tanto però vediamo, magari comunque comincerò a farci un po' l'abitudine o magari riuscirò a spegnerla completamente e basta. Ok, adesso facciamo il test diciamo mantenendo le dita dove dovrebbero stare. Ok, decisamente peggio, proprio a volte le mani non riesco a capire dove sono sulla tastiera e quindi mi sbaglio sempre di una lettera, di solito a sinistra, però dai diciamo 33, non lo so, sono veramente indeciso sul provare ad adattare il mio metodo, magari cominciando a usare più il mignolo e semplicemente facendo più esercizio oppure cercare di migliorare su questa metodologia più strutturata. Devo capire, sicuramente quello che comincerò a fare è lavorare per esempio su le parole che ho sbagliato più spesso in modo da fare esercizio più mirato. Volevo fare questo piccolo check on voice, spero che entro la fine della settimana sarà possibile per me raggiungere 90-95 parole al minuto. In realtà l'obiettivo che mi ero posto all'inizio era 90 parole al minuto, quindi col test fatto inizialmente ci sono andato molto vicino, però vediamo, piano piano si lavora e vediamo qual è un obiettivo giusto da metterci per questo quarter. Eccoci arrivati a sabato, tiriamo le somme di questa prima settimana di ritorno ai vlog per vedere se mi sono comportato bene, male, cosa abbiamo migliorato, cosa invece magari è peggiorato. E per farlo partiamo un po' dal riassunto della settimana, cioè la vista giornaliera di ClickUp. C'è come vedete un elemento di cui non vi ho parlato, cioè skin care. È qualcosa che non mi era mai interessato, adesso è un trend su TikTok, so che ci sono addirittura problemi con Gen Z, persone molto giovani che sono ossessionati con la skin care anche se per loro non è ancora un tema. Mi sono detto ok dai, comunque vediamo, proviamo. Avevo comprato dei prodotti tempo fa che poi ho usato o non ho usato e questa settimana sono riuscito più o meno tutti i giorni a fare la basica routine del lavarsi la faccia con il sapone apposito, usare il moisturizer, non mi ricordo come si chiama in italiano, fare la parte di scrubbing almeno una volta a settimana, non lo so. Vediamo, in realtà mi rendo conto che la mia pelle reagisce sempre in maniera un po' strana quando uso questi prodotti, però ho l'idea di continuare almeno per un paio di settimane e vedere come va e poi trarre un po' di conclusioni, capire se vale la pena continuare a spendere 80 euro per comprarsi i prodotti assolutamente sovrapprezzati. Si parla tanto della Pink Tax, però quando si parla di cura della pelle per uomini che non vogliono limitarsi a fare acqua sul viso, lì non lo so, la chiamiamola la Blue Tax da prendere in considerazione. Poi, luce solare al mattino, ne ho già parlato all'inizio di questo vlog, ma come dicono fonti molto più adorevole di me, esporsi alla luce solare appena alzati o poco dopo, fa molto bene per tantissimi motivi, vi rimando al solito podcast riassuntivo di Andrew Kuperman sul tema, quindi cerco di tenere sotto traccia questo elemento qui, anche se in realtà poi avendo un cane, diciamo che difficilmente manco questi appuntamenti, a parte casi straordinari. L'esercizio, come vedete, è forse una delle cose che sono riuscito a fare di meno, solo due volte questa settimana, adesso ce ne sarà una terza e spero di allenarmi anche domani che è domenica, però è forse la cosa che sono riuscito a inserire peggio all'interno della settimana, devo un po' riprendere l'apitudine, penso che sia veramente importante, quindi mi ci concentrerò. Discorso simile vale forse per la lettura, discorso che sto riprendendo adesso, diciamo che la mia costanza nella lettura dipende anche tanto dal libro che sto leggendo, quindi se sono catturato continuo, ho iniziato a leggere adesso Never Split the Difference, che è uno di quei libri che tutti quanti guru citano, quindi ho sempre avuto un po' un rapporto di amore e odio a prima vista con questo libro in cui si parla tanto di negoziazione, però ho deciso finalmente di dargli una letta, l'ho trovato in formato fisico qui a Lisbonne in inglese, ho detto ok, è un segno, andiamo, vediamo com'è, quindi poi vi terrò aggiornati anche su quello, magari settimana prossima avremo anche un po' più di tempo per parlare della lista di libri e di film su cui mi voglio concentrare questo mese, questo quarter. Ho fatto, diciamo, degli esercizi di scrittura alla tastiera più o meno tutti i giorni, anche se non tantissimo, poi adesso ne parleremo più nel dettaglio, e quasi tutti i giorni ho fatto dei puzzle a scacchi. Quindi anche questo è un tema di cui vi parlerò, però vorrei registrare anche lì un contenuto più o meno per capire cosa succede se per 30 giorni una persona si esercita a scacchi in maniera più o meno strutturata. Non sono mai stato molto bravo, non ho mai giocato molto seriamente, e non ho mai fatto puzzle, cosa che invece adesso ho cominciato a fare un po' per curiosità. Vediamo quali saranno gli sviluppi, vi terrò aggiornati. Rimane anche sempre l'idea di provare a pianificare quello che andrò a fare durante la giornata usando la tecnica del time blocking, che spero ormai tutti quanti conosciate, comunque fondamentalmente consiste nel bloccarsi delle ore all'interno del calendario per specifici task. Non l'ho fatto tutti i giorni, però diciamo nei giorni lavorativi l'ho fatto abbastanza, questo è lunedì per intenderci, e come al solito è abbastanza utile. La parte di meditazione ormai è qui quasi per un meme perché continuo a non farla e adesso non è una priorità, magari più in là. Non ho tracciato le ore di sonno, so che non sta andando benissimo per vari motivi. Il motivo più importante è che domenica, quindi proprio il giorno in cui ho riniziato il vlog, c'è stato un incontro a sorpresa per strada. Abbiamo dovuto prenderci cura della povera piccola Kino, che era rimasta presa in un motore di una macchina e quindi poi domenica siamo rimasti praticamente svariate ore dal veterinario, l'abbiamo dovuta portare avanti e indietro, trovare una casa perché poi con Sinbad diciamo che la situazione sarebbe stata complicata. Sinbad tra l'altro anche è stato male, quindi tutta una combinazione strana di cose che comunque adesso si è risolta bene. Kino ha trovato una casa e una nuova padrona che ha tanto tempo da dedicarle, quindi la piccolina è ok. E a parte questo momento gattini che ovviamente è fatto per raccogliere il vostro like e la vostra descrizione, vi parlo un po' di quello che è successo lato scrittura. Allora, il mio approccio nel testare e imparare nuove cose più o meno sarà il seguente. Spenderò i primi giorni, la prima settimana magari, per capire qual è il modo migliore per imparare secondo me, secondo le risorse che riesco a trovare, qual è l'approccio giusto da prendere e poi dopo cercherò di seguire il piano, poi dipende chiaramente dall'attività, però almeno un mesetto, due, tre mesi, per poi tirare delle somme. Questa settimana quindi l'ho usata un po' per capire qual è il modo migliore per esercitarmi, per continuare, per rispondere alla mia domanda più grande, cioè ma dovrei continuare con la mia tecnica di scrittura attuale, semplicemente magari provando a migliorare delle cose, oppure dovrei imparare a scrivere come vuole il dettame di questo touch typing method. E ho preso una decisione, forse non è la strada più facile, però vediamo, alla fine faccio queste cose anche per mettermi un po' in difficoltà. Quindi vi dico subito che ho deciso di provare a imparare il touch typing proprio come deve essere. Vi faccio vedere questo sito, questo ci dà un'idea molto chiara di come funziona il touch typing. Fondamentalmente l'idea è che noi abbiamo le nostre mani disposte sulla linea centrale, ogni dito ha segnata una lettera su questa linea, o più, diciamo una lettera e poi altri tasti fondamentalmente, e poi si sposta su e giù su queste linee che vedete con colore diversi per andare a premere altri tasti. Questa è un po' la logica dietro. Qual è il vantaggio rispetto al modo in cui scrivevo io magari, che c'è una maniera più strutturata di utilizzare tutte e dieci le dita, cosa che per esempio io magari scrivendo normalmente non faccio, quindi riesco a raggiungere più o meno le 90 parole al minuto, che era in realtà l'obiettivo iniziale che mi ero posto senza sapere qual era il mio benchmark. Però non coinvolgo bene le mani, a volte mi viene facile perdere l'orientamento senza guardare la tastiera perché non ho mai un punto di riferimento fisso come invece si ha con questa idea del touch typing, perché io mi sposto per esempio dalla J alla U e poi torno subito alla J e quindi so sempre dov'è ogni dito in qualsiasi momento. È molto difficile farlo, mi rendo conto che adesso scrivo appunto magari con 30 parole al minuto con questa tecnica, quando invece poi con l'altra scrivo a 80-90. E l'altra decisione che ho preso, su cui potrei ricredermi a breve, ma vediamo, è quello di cercare di usare sempre quando scrivo la metodologia corretta. Non l'ho fatto questa settimana, anche perché poi ragazzi quando uno sta al lavoro deve scrivere le cose velocemente, diciamo che è difficile, però cercherò di forzarmi un pochettino di più nei prossimi giorni perché chiaramente usarla sempre velocizza tantissimo l'apprendimento, quindi più la uso più spero di poter arrivare al livello di scrittura attuale ma con il metodo corretto il prima possibile. Sarebbe bello riuscire ad arrivare alle 80-90 parole al minuto con questa struttura, magari nell'arco di 2-3 settimane, è quello che ho visto alcune persone sono riuscite a fare. Si parla di fare vari passi indietro per poi sperare di fare più passi in avanti più velocemente in futuro. Vediamo se funzionerà, se poi mi rendo conto tra un mese che non riesco a migliorare, che continua a essere lento il progresso, allora mi concentrerò sul migliorare la mia tecnica attuale senza fare stravolgimenti. Quindi vediamo, è un processo di apprendimento che faccio con voi, adesso faccio due test al volo così vediamo quanto e come è migliorata la mia velocità di scrittura. Mi concentrerò solo su questo metodo specifico, quindi non facciamo più riferimento al modo più veloce che ho di scrivere. Ok, in realtà è andato un po' meglio del previsto, quindi 38 parole al minuto che rispetto a quello che avevo fatto anche solo due giorni fa mi sembra abbastanza buono e 94% di accuratezza, che non è ottimo, però diciamo anche qui forse sopra la media. Dopo una settimana più o meno di allenamento, si parla di veramente forse due test al giorno e senza aver scritto nella mia giornata normale in questo modo siamo a 38 parole al minuto e dopo che siamo partiti mi sembra intorno alle 30. vediamo se tempo una o due settimane riusciamo a arrivare 70, 60, 70 e se entro la fine del mese riusciremo effettivamente a superare le 90 parole al minuto con questa metodologia. Vi faccio vedere al volo il discorso scacchi perché negli ultimi 30 giorni ho fatto 5 partite e 229 puzzle, in realtà negli ultimi 7 è quando ho cominciato a farli, quindi questa è diventata la mia attività da vaso, chiamiamola così, e devo dire abbastanza divertente, li trovo un po' ripetitivi sotto alcuni aspetti, non so quanto effettivamente la capacità di fare puzzle poi si trasli nelle partite, il mio problema in partita principale è che a parte mi distraggo, li faccio cose a caso, a volte proprio non sto guardando, ma poi non ho mai studiato le aperture e quindi chiaramente questo è un po' un problema, col bianco uso sempre, mi sembra si chiami l'apertura inglese può essere, che è quella che avevo scelto perché è sempre uguale, quindi non devo adattarmi all'avversario, però col nero per esempio non ho un'apertura e quindi vediamo, adesso farò un po' di puzzle perché non ho il tempo penso di concentrarmi bene sugli scacchi in generale, voglio capire questo quanto mi aiuta nelle partite normali, però poi l'idea è quella anche di riuscire ad arrivare a un certo livello di elo nelle partite di scacchi vere e proprie, come vedete adesso sono a 677 rapid, 475 blitz, quindi sono veramente una sega, ho fatto un po' di sale e scendi mi sembra, però insomma vediamo un po', questa è l'idea. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa settimana di vlog, spero che il ritorno di questi vlog vi faccia piacere e ci risentiamo settimana prossima con news, nuove sfide, in realtà anche tanti viaggi settimana prossima, quindi non so bene come vi porterò questo format, potrei diventare un vlogger vero invece che uno che vi aggiorna su cose nerd e noiose e niente, come al solito noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!